Ore 16, tutti pronti in campo. È partita oggi l'avventura 2017 del gruppo salernitano dell'Equipe Campania AIC. Si rinnova dunque l'ormai tradizionale appuntamento con il raduno estivo dei calciatori in attesa di contratto, organizzato al solito e in maniera impeccabile da Antonio Trovato, referente regionale dell'Associazione Italiana Calciatori. Allo stadio Figliolia di Baronissi il gruppo del primo giorno contava 34 atleti agli ordini di uno staff tecnico di primo ordine. Giovanni Langella e Michele Carrella agli allenatori, Antonio Bartiromo e Alessandro Vitolo, i preparatori atletici, Enzo Barbato, il preparatore dei portieri. Un leggero vento ha reso meno affosa la giornata alleggerendo la fatica per i calciatori in gruppo. Tanti i volti noti, i portieri Raffaele Gragnaniello e Gigi Amabile, i difensori Carmine Pagano e Pietro Sicignano, il fantasista David Munard insieme a tanti altri atleti, reduci di esperienze tra Lega Pro e direttanti regionali. Il programma di lavoro è già stato stilato cercando di far combaciare le esigenze di tutte le componenti del gruppo salernitano dell'Equipe Campania. Dopo la prima settimana di lavoro ci sarà già una prima amichevole fissata per domenica 23 luglio prossimo. A Sturno l'Equipe Campania renderà visita alla Casertana che proprio domenica chiuderà il ritiro irpino iniziato il 12 luglio scorso. Altri test saranno organizzati cammin facendo con la possibilità per tutti gli atleti di farsi trovare già in piena forma in caso di ingaggio. Le prospettive sono ottime tenendo conto dei numeri delle passate edizioni. Nel 2016 ad esempio hanno trovato sistemazione tutti gli oltre 150 calciatori che hanno partecipato al raduno estivo. Un chiaro segnale dell'ottimo lavoro dell'Equipe Campania coordinato da Antonio Trovato.